E' stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio all'uomo dell'Est Europa che l'altra sera Mestre ha colpito con due fendenti un connazionale. A dare l'allarme è stata una guardia giurata che aveva visto un uomo correre ferito e sanguinante. Sul posto è giunta la polizia mentre il ferito è stato medicato all'ospedale. Ha subito due lesioni, una alla schiena e una ad un braccio. Fortunatamente i colpi sono stati attutiti dal giubbotto che indossava. Ad aggredire il giovane è stato il fratello della fidanzata del ferito per motivi forse legati a gelosie. L'arrestato era arrivato sul posto con alcuni amici. Dovevano trascorrere una serata tutti assieme ma improvvisamente ha compiuto il drammatico gesto. Si tratta di una persona in cura per problemi psichici e con precedenti penali.